A volte penso che l'uomo sia una bestia di se stesso, in un'epoca moderna dove tutto si è voluto e l'uomo è rimasto pur sempre un animale, vittima dei suoi istinti, come un essere che vive in cattività, veniamo governati dall'avidità, l'unica cosa che condividiamo è la terra ma non i valori trasmessi dai nostri padri, è la sola cosa che vorrei fare ora e non pensare a ciò che verrà domani. Sono stanco che gli errori degli altri ricadano su di noi, vorrei evitare tante cose. A cominciare dal superfono, camminando nelle vie della mia città avverto la paura verso l'altro, che non riesco a comprendere, dando il meglio di noi stessi e le nostre generazioni per garantire una vita migliore della nostra. Sì il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo, tutto è lecito, niente è reale. meraviglioso meraviglioso